Ciao a tutti ragazzi, io sono Ludi e oggi siamo qui in un nuovissimo video che parleremo di Adoptomy Allora, praticamente, su Adoptomy, oltre a ritornare al calendario 0, quanto ritornerà anche la pista di pattinaggio dei pinguini e meno male, perché con i gingerbread prenderli che stavano in strada per strada cioè, non ci piaceva tanto, quindi perché loro hanno pensato di metterli hanno pensato di mettere i pazzetti tanto tempo fa, non mi ricordo come tanto tempo fa, cioè, gli dovevamo comprare i gingerbread in realtà i gingerbread c'erano, ma non c'era la pista di pattinaggio gli dovevamo cercare per la mappa e a me quella cosa non piaceva tanto, perché ci mettevamo solo tempo e quindi a me non piace, e quindi è meglio fare la pista da pattinaggio con i pinguini e comunque, poi, insomma, sto parlando tanto tempo di questo di Adoptomy, perché è il mio compleanno, è il 4 dicembre quindi, se ve lo ricordate, potete farmi lavori grazie, ciao!